Ad un anno dall'Aquila, città europea dello sport, si è fatto il punto sul contributo dello sport all'inclusione e allo sviluppo sostenibile. In un anno in città sono state tante le iniziative organizzate, con i giovani al centro. Un convegno all'auditorio del parco a celebrare questo anno così intenso dedicato allo sport con tanti relatori ed ospiti. Per il comitato nel 2023 si vuole continuare a far bene sull'onda di quello che è stato fatto già nell'anno passato. Assolutamente sì, un anno intenso con oltre 80 eventi locali, nazionali, regionali, internazionali che hanno riportato l'Aquila sotto i riflettori mondiali. Un coinvolgimento che neanche noi forse ci aspettavamo, più di 52 mila presenze tra atleti, accompagnatori, partecipanti che hanno rimesso l'Aquila un po' al centro dell'attenzione sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale. Come diceva l'assessore e anche il sindaco, noi speriamo di continuare, di proseguire, di non perdere questa grossa capacità che ormai abbiamo già messo in movimento. Speriamo di farlo anche nel 2023 e di poterci migliorare rispetto a quello che abbiamo fatto nel 2022. E si è parlato anche dell'importanza dell'attività motore a scuola, spesso sottovalutata e spessa al centro di dibattite e riflessioni. Era presente per il governo il capo dipartimento del Ministero dello Sport. Siamo qui a testimoniare proprio la vicinanza del governo, del Dipartimento Tutto, nell'implementare quelle che sono le iniziative, quindi prendere spunto dall'ottimo lavoro che è stato fatto nel corso dell'anno passato e valorizzare quelle iniziative più importanti cercando anche di mutuare alcune particolari best practices per mutuarle su altri territori della nostra nazione. L'Aguila è sicuramente stata all'altezza della situazione, ci auguriamo che possano queste iniziative svolte ulteriormente arricchire tutto il tessuto sociale a cominciare dai più giovani, dai ragazzi che in qualche modo sono la categoria sulle quali noi stiamo puntando di più.